Il caso e la probabilità sono due concetti strettamente legati tra loro, essendo il primo, sotto molti aspetti, l'ambito di applicazione della seconda. Dal punto di vista filosofico, sia gli aspetti ontologici che quelli epistemologici delle due nozioni sono piuttosto complessi. In questa lezione richiamerò brevemente i principali punti di vista, al fine di giustificare l'approccio matematico alla probabilità formalizzato agli inizi degli anni 30 del 900. Nonostante il concetto di caso, essenzialmente legato all'imprevedibilità di certi fenomeni, possegga una storia plurimillenaria, per esempio se ne occuparono Democrito e Aristotele, la nozione quantitativa di probabilità nasce nella seconda metà del 600, con lo studio e la generalizzazione da parte di Pascal, Fermat e Huygens di problemi relativi al gioco d'azzardo apposti dal cavalier Dimre. Fin dai suoi esordi, il concetto di probabilità ha dimostrato di possedere un carattere ambivalente. Da un lato riguarda lo studio dei fenomeni casuali o stocastici, e quindi trova il fondamento in un contesto di tipo empirico. Mentre dall'altro viene usato per determinare i gradi di credenza relativi alla nostra conoscenza dei fenomeni, acquisendo così un valore epistemologico. La complessità della nozione si deve dunque alla diversa interpretazione filosofica che se ne dà. Discutiamo alcuni aspetti a partire da alcuni esempi concreti. Nell'interpretazione classica, avanzata dalla Plas, la probabilità viene situata nel contesto deterministico della meccanica newtoniana, ed è quindi di tipo epistemico, cioè si riferisce alla limitatezza della conoscenza umana. Supponiamo di voler lanciare un dado, quale faccia esce? Nonostante conosciamo le leggi che governano il moto, non siamo in grado di precisare con esattezza le condizioni iniziali, e nemmeno di descrivere alla perfezione tutti gli ostacoli che il dado incontrerà nel suo moto. Quindi non possiamo stabilire l'esito del lancio che per noi risulta imprevedibile. Possiamo formalizzare la situazione considerando l'insieme omega formato dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, che chiamerò spazio degli eventi o spazio campionario. Al lancio del dado sono associati degli eventi che possono essere di due tipi, elementari o composti. Lo scopo del calcolo delle probabilità è quello di determinare la probabilità di un qualsiasi evento composto a partire dalla conoscenza delle probabilità degli eventi elementari. Nel caso del lancio del dado un esempio di evento composto è l'uscita di un numero pari, oppure di un numero maggiore di 4 o ancora di un multiplo di 3. Nel primo caso l'evento si manifesta se esce un 2 oppure un 4 o un 6. Nel secondo caso se esce un 5 oppure un 6. Nel terzo se esce un 3 oppure un 6. Da questi esempi puoi comprendere come, dal punto di vista matematico, i possibili eventi associati al lancio del dado possono essere messi in corrispondenza con i sottoinsiemi dello spazio degli eventi omega. Gli eventi elementari corrispondono ai singoletti, cioè sottoinsiemi formati da un solo elemento. Anche i due sottoinsiemi impropri hanno un'interpretazione significativa. L'insieme vuoto corrisponde all'evento impossibile, in questo caso al fatto che lanciando il dado non esce alcun numero, mentre omega corrisponde all'evento certo, in questo caso all'uscita di uno qualsiasi dei sei numeri. Laplace pone a fondamento del calcolo delle probabilità il principio di ragione insufficiente, più tardo denominato principio di indifferenza. Se non c'è un motivo sufficiente per assegnare probabilità diverse, gli eventi elementari devono essere considerati equiprobabili. Se non abbiamo c'è alcuna ragione per ritenere che il dado sia truccato, seguendo questo principio dobbiamo assumere che le probabilità di uscita delle sei facce siano uguali. Le indichiamo con P minuscola. Qual è la probabilità che esca un numero pari? Dal punto di vista insiemistico, questo evento è l'unione dei tre insiemi che rappresentano i tre eventi elementari in cui riesce rispettivamente il 2, il 4 e il 6, e quindi si dice che è il loro evento unione, o somma logica. In virtù del principio di indifferenza, la probabilità che esca un numero pari è il triplo di ciascuna delle probabilità uguali che esca il 2, il 4 e il 6, cioè 3P. Due eventi che si escludono a vicenda vengono detti incompatibili. Gli eventi elementari sono un esempio di eventi tra loro incompatibili, ma esistono altri esempi più complessi, come l'evento che esca un multiplo di 3 e l'evento che esca un numero minore di 3, oppure un evento qualsiasi e il suo evento contrario, rappresentato dall'insieme complementare. Ragionando come abbiamo fatto poco fa, possiamo facilmente vedere come nell'interpretazione classica la probabilità della somma logica di due eventi incompatibili è uguale alla somma delle probabilità dei due eventi. In questo modo, aggiungiamo al risultato che quando lo spazio degli eventi è un insieme infinito, e nell'interpretazione classica non può essere altrimenti, la probabilità di un evento è proporzionale alla cardinalità dell'insieme che lo rappresenta. Nel caso del lancio del dado, quindi, la probabilità dell'evento certo è uguale a 6P, perché lo spazio degli eventi contiene 6 elementi. Dato che l'evento certo deve assumere sempre la stessa probabilità, sia che riguarda i lanci del dado, sia che riguarda altri fenomeni, per esempio il lancio di una moneta, si suole normalizzare la sua probabilità a 1, da cui P è uguale a 1 sesto. Siamo aggiunti così alla definizione classica di probabilità. Il numero di casi elementari possibili è uguale alla cardinalità n dello spazio degli eventi, quindi la probabilità di ciascun evento elementare è uguale a 1 fratto n. Un evento rappresentato da un sottoinsieme avente cardinalità k ha quindi probabilità uguale a k fratto n, ma k è il numero di casi elementari favorevoli a che l'evento si manifesti, quindi la probabilità dell'evento è uguale al rapporto tra il numero di casi favorevoli e il numero di casi possibili. L'aspetto più critico dell'interpretazione classica della probabilità risiede proprio nel principio di indifferenza. Quando lanciamo un dado oppure una moneta come facciamo a sapere se sono bilanciati o truccati? Jacopo Bernulli dimostra la legge debole dei grandi numeri, secondo la quale man mano che il numero n di lanci tende a infinito, la probabilità che la frequenza k su n di un evento stia all'interno di un qualsiasi intervallo contenente la probabilità di tale evento tende a 1. Ciò significa che possiamo misurare, con un'accuratezza che dipende dal numero di lanci, la probabilità di uscita di una qualsiasi faccia mediante la frequenza media con cui tale faccia esce in esperimenti di lancio del dado. Questo risultato ha dato a vita a una seconda corrente di pensiero riguardo lo statuto e l'interpretazione della probabilità, il frequenzismo, che si fa risalire a Ellis Event e che ha ricevuto una formalizzazione rigorosa nell'opera di Von Mises. Secondo quest'autore il principio di indifferenza deve essere rigettato, la probabilità ha carattere prettamente empirico e può essere applicata esclusivamente a fenomeni casuali di massa. Von Mises introduce il concetto di collettivo per designare i fenomeni cui si ha applica la probabilità, che quindi diventa un concetto secondario rispetto a quello di caso. Per Von Mises il collettivo può essere considerato come una successione infinita di eventi uniformi, per esempio di lanci del dado, i quali differiscono riguardo a certi attributi osservabili, per esempio la faccia uscita. La probabilità di ciascun evento è il limite della sua frequenza relativa, man mano che questa viene calcolata su una quantità che tende infinita di elementi della successione. Come abbiamo visto nella relazione introduttiva, però, una successione qualsiasi può non possedere il carattere della casualità, così Von Mises limita l'uso della probabilità alle sole successioni casuali, per la cui definizione introduce il concetto di scelta di posto. Una scelta di posto consiste nell'estrazione di una sottosuccessione i cui elementi vengono scelti sulla base della loro posizione, indipendentemente dall'attributo che possengono. La successione è casuale se soddisfa il principio di casualità o principio dell'impossibilità di un sistema di gioco, secondo il quale i valori limite delle frequenze dei suoi attributi devono essere indipendenti da qualsiasi scelta di posto. Se una successione possiede questa caratteristica, qualsiasi giocatore d'azzardo non può mettere in atto alcuna strategia che li assicuri di vincere. Anche la definizione e interpretazione frequentista della probabilità presentano degli aspetti critici non indifferenti. Da un lato, niente ci assicura che in una successione di fenomeni casuali le frequenze posseggono effettivamente un limite. Dall'altro, la nozione di scelta di posto richiede delle restrizioni, come ad esempio il requisito di effettiva calcolabilità, altrimenti le successioni come i collettivi di von Mises non possono esistere. Un altro limite dell'interpretazione frequentista è che il concetto di probabilità da essa derivato non è applicabile a singoli eventi o a eventi rari, ma forse il difetto maggiore è che nessuno può compiere una quantità infinita di sperimenti per determinare la probabilità esatta con cui un certo attributo si presenta. Vediamo un esempio nel quale le due interpretazioni della probabilità possono essere sfruttate per ottenere dei risultati esatti in un ambito nel quale non sono direttamente applicabili. Consideriamo un cerchio posto all'interno di un rettangolo. Qual è la probabilità che scelto casualmente un punto del rettangolo questo appartenga anche al cerchio? Non possiamo rispondere utilizzando direttamente l'interpretazione classica, in quanto lo spazio degli eventi, cioè l'insieme dei punti del rettangolo, è infinito. Mettendo in gioco però le due nozioni di probabilità, riusciamo ottenere la risposta per mezzo di un esperimento ideale. Supponiamo che il rettangolo e il cerchio vengano sostituiti con dei contenitori, che abbiano sezioni congruenti ad essi e che piova su questi contenitori. Dall'interpretazione classica prendiamo in prestito il principio di indifferenza, supponendo che le gocce di pioggia abbiano la stessa probabilità di cadere in qualunque punto del contenitore rettangolare. Mentre dall'interpretazione frequentista prendiamo in prestito il calcolo della probabilità per mezzo della frequenza relativa, la quale si avvicina alla probabilità effettiva al crescere della lunghezza della sequenza di eventi, la caduta di ogni goccia considerata. Se lasciamo piovere molto a lungo, la quantità di gocce cadute diventa enorme e i due contenitori si riempiono fino a una certa altezza, che è la stessa in virtù del principio di indifferenza. Possiamo calcolare la frequenza per mezzo del rapporto tra i volumi dell'acqua contenuta nei due recipienti. Supposto che tutte le gocce cadute abbiano lo stesso volume. Ma dato che le altezze sono uguali, il rapporto tra i volumi è uguale al rapporto tra le aree di base, cioè tra l'area del cerchio e l'area del rettangolo. Questa definizione di probabilità, applicabile solo in contesti analoghi, gode della proprietà di additività nel caso di eventi incompatibili proprio in virtù dell'analoga proprietà di additività delle aree. Se inseriamo nel rettangolo un triangolo che non si sovrappone al cerchio, allora l'evento corrispondente alla scelta di un punto del cerchio è incompatibile con quello in cui si sceglie un punto del triangolo. Così la probabilità della somma logica dei due eventi, calcolata come rapporto tra le aree, è proprio uguale alla somma delle probabilità dei due eventi calcolate allo stesso modo. Questo esempio permette di evidenziare una caratteristica importante della probabilità. La probabilità che venga scelta un dato punto del rettangolo è uguale a zero, perché l'area di un punto è uguale a zero. Ma l'evento corrispondente alla scelta di quel punto non è impossibile. L'evento impossibile corrisponde a non scegliere alcun punto. Viceversa, un evento che ha probabilità 1, per esempio la scelta di un qualunque punto tranne quello, non è certo, perché potrebbe avvenire scelto proprio quel punto. Restando nell'ambito delle interpretazioni epistemologiche della probabilità, cito l'impostazione logicista, sulla quale non mi soffermo per motivi di tempo, e quella soggettivistica, che ha avuto origine con Donking e Borel ed è stata poi sviluppata da Ramsey e De Finetti. La probabilità diventa, secondo questi autori, soggettiva, in quanto rappresenta il grado di credenza di una persona relativamente a un dato fenomeno, e può quindi essere riferita anche a un singolo evento o eventi rari. Un metodo per misurare il grado di credenza è quello delle scommesse, ma l'interpretazione soggettivista non si limita a questo. Supponiamo che una persona decida di scommettere su un evento E pagando una quota P quando la vincita nel caso in cui l'evento si manifesti sia V. Se l'evento è certo, risulta difficile credere di vincere più di quanto si abbia pagato, quindi P è maggiore o uguale di V. D'altro canto, nessuno è disposto a pagare più di quanto si vince, così nel caso in cui l'evento sia certo P è uguale a V. Se invece l'evento fosse impossibile, allora nessuno sarebbe disposto a pagare perché non vincerebbe, quindi in questo caso P uguale a 0. Ha senso allora definire la probabilità in questo contesto come il rapporto P fratto V. Affinché questo concetto risulti ben definito è necessario imporre delle condizioni di coerenza nei gradi di credenza, contravenendo le quali il soggetto che li valuta incorre in perdite superiore al minimo possibile. Queste condizioni di coerenza si traducono nelle usuali proprietà della probabilità. Un aspetto interessante dell'interpretazione soggettiva è che, a fronte di nuove evidenze fornite da manifestarsi di certi eventi, il soggetto dispone di un metodo per aggiornare i propri gradi di credenza, fornito dal teorema di Bayes che analizzeremo nella prossima lezione. La morale di questa lunga discussione è che le differenti interpretazioni inesistenti applicabili in contesti differenti impediscono la definizione operativa univoca della probabilità. La risposta matematica a questo problema è data dall'impostazione assinomatica, proposta da Kolmogorov nel 1933. Non entro nei dettagli tecnici che riguardano il caso in cui lo spazio degli eventi abbia cardinalità non numerabile e richiedono conoscenze superiori. Considerato uno spazio degli eventi omega, una funzione di probabilità P è una funzione dall'insieme delle parti di omega all'intervallo reale 0,1, che soddisfa i seguenti assioni. P di omega uguale a 1, cioè la probabilità dell'evento certo è uguale a 1, e se gli eventi E1 ed E2 sono incompatibili, cioè l'intersezione dei sottoinsiemi che le rappresentano è vuota, allora la probabilità della loro somma logica è uguale alla somma delle loro probabilità. Si tratta proprio delle proprietà che abbiamo già incontrato più volte. A partire da questi assiomi si deducono le ulteriori proprietà, come ti mostrerò nella prossima lezione. L'approccio assiomatico non dà alcuna interpretazione della probabilità e non fornisce alcuna procedura per determinare le probabilità degli eventi elementari, che dipendono da ciascuna specifica situazione in cui il concetto di probabilità viene applicato. L'approccio assiomatico non dà alcuna procedura per determinare le proprietà, come ti mostrerò in cui il concetto di probabilità viene applicato. L'approccio assiomatico non dà alcuna procedura per determinare le proprietà, come ti mostrerò in cui il concetto di probabilità viene applicato.